Buonasera e benvenuti a Daniene. Potevamo scegliere un titolo migliore? Probabilmente sì. In questi giorni siamo sospesi tra il ballottaggio e il referendum. Cosa succederà? Cadrà il governo? Ecco, io vorrei che per una volta noi provassimo a parlare della destra senza cadere nella solita trappola dell'ideologia, che poi finisce essenzialmente per confrontare la destra di oggi con la destra del passato. Per cui si fa questo inutile elenco di tutte le similitudini, il disprezzo per la Costituzione e per le regole della democrazia, il tentativo di controllare la magistratura, di manipolare l'informazione, di umiliare la scuola e la cultura, il populismo, il culto della personalità, il razzismo, il disprezzo per le minoranze, per le donne e per gli omosessuali. Ecco, mettiamo per un attimo da parte tutto questo e cerchiamo per una volta di interrogarci sulla crisi della destra di oggi, guardandola nel mondo di oggi con i problemi della globalizzazione, dei mercati finanziari, dell'industria e del lavoro. E allora la domanda è questa. Il nazifascismo è ancora un modello economico competitivo? E dall'altra parte cosa c'è? Spesso abbiamo sentito descrivere il PD come un oggetto volante non identificato, ma è una critica ingiusta, non è volante. Però ha fatto qualche progresso e si è finalmente liberato del mago di Arcella da quando ha capito che ripetere cento volte al giorno Berlusconi dimettiti non produce alcun risultato. Ma a questo punto però l'interrogativa è proprio questo e riguarda come al solito un uomo e un uomo solo. Resterà al comando? Si metterà da parte? Tutti se lo chiedono, tanto che la domanda è stata fatta anche allo stesso Berlusconi. Ha finito il suo ciclo? È strano, ha risposto lui. È la stessa domanda che ho fatta a una ragazza ieri sera. Insomma, non sappiamo come andrà a finire, ma una cosa è certa, anche se andasse via oggi, ormai Berlusconi, nel bene e nel male, ha comunque cambiato per sempre il DNA degli italiani. Butta la pistola! Arrenditi, butta la pistola! Butta la pistola! Sei circondato, non puoi scappare da nessuna parte, ti è andata male la rapina, arrenditi, butta la pistola! Ma possiamo parlare di politica adesso? Vogliamo andare avanti con questo gossip della rapina! E questo era nel bene. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti i fratelli della Wallerator, che qua la situazione è drammatica, guardate che è successo! Hanno chiuso all'olgettino e mi hanno mandato tutte le guaglioni qua, più ci stanno banchieri responsabili, struttura delta, P2, P3, P4, tutto qua! Questa loggia gloriosa della Wallerator è diventata uno zoo! Io poi non so neanche che cosa darci da mangiare, io non ho mai tenuto nella mia vita un animale, non ho mai avuto neanche un pesce rosso, anzi no, veramente negli anni settanta tenevo un pesce rosso, ma poi la banda della Magliana me lo sparò per ritorzione. Questa è la macchina eccellente! No, non te la presto più perché tu poi ci metti la droga! No, quello era il mio fidanzato, ma ci siamo lasciati! Non vi siete lasciati! Sono due mesi che non ci vediamo! Ci hai pranzato ieri al ristorante La Pagoda, tu sai dov'è, tu sai com'è, tu sai per chi! Ma è lui che non si dà paccia! Dicci che ora la pace sta arrivando! È arrivato il Scilipati! Ora Scilipati vuole un posto di responsabilità! Ora Scilipati vuole il mistero dell'omopatia! Ah, che bel cappello capite! Anche Scilipati vuole un cappello come il vostro! Ah, che belle ragazze, capite? No, chi la non la puoi toccare, te l'ha già già ditta, la bulgara è per Tosi, ripete? La bulgara è per Tosi, dateci una slovena! Chiede a Verdini dove l'ha messa, o coordinatore! Scilipati, la slovena non ci piace, perché sopia! E tu prenditela con la russa, che le piglia tutte a calci, forza, dacci la slovena, dai la slovena ragazzo! Signore, non c'è, la slovena è andata interrogata dalla signora Bocassina! Ma come è andata la Bocassina? Ti ho detto mettici una catena ai piedi, la fa uscire così! Io non lo so! Scilipati vuole fare all'amore! Scilipati! Senti, trova qualcosa e dici che è una donna! Gaedana! Siamo a posto! Gaedana! Si è scelta tu, Grandini! Ho fatto in gol! Scusa signore, volevo chiedere se è possibile a conto su liquidazione 2016, perché purtroppo il cognato di mio cugino è andato a sbattere, ha avuto brutto incidente, nelle Filippine sta molto male, è andato a sbattere contro lo struzzo, signore! Sì, signore! Mio cugino è andato a sbattere contro? Struzzo, signore! Uno struzzo! Sì! Uno struzzo! Uno struzzo nelle Filippine! Lui, signore! Ma va a cambiare nonna che ha fatto di nuovo! Mi lasciate fare adesso questa comunicazione in pace per tutti, fratello o no? Ma poi perché vi siete mascherati? Che significa che questi pezzi in una loggia segreta è un carnevale al buio? Ma che film avete visto? Com'è triste Venezia! Ballate piano! Fratello, allarme rosso, lo sapete perché è successo tutto questo? Perché abbiamo fatto il colpo di Stato più lungo del mondo, 17 anni, fratello, chiana, chiana, ho controllo dell'informazione, ha leggetto l'antimedemocratica, 17 anni e ancora non abbiamo finito. Ma avete mai sentito la parola blitz? Quando avevamo cominciato questo colpo, mio figlio faceva l'asilo, ora se ce ne parlo mi rite in faccia e poi questi scandali sessuali, io capisco, ma la fessa, la fessa, la fessa, alla gente ci è venuto il mal di stomaco, volevamo colpire il cuore dello Stato, invece avevamo sbagliato organo. Allora, chi ste sono le istruzioni per l'emergenza? Prima cosa, dobbiamo conquistare il voto ricchione. Allora, Formigoni già sta facendo con il suo nuovo stilista, ma non basta, giovanardi ti devi sacrificare, giovanardi hai a diventare il vendola di destra, giovanardi hai a mettere l'orecchino, o ti metti l'orecchino oppure sposti l'anella dal naso all'orecchio, ripeto, spostare l'anella dal naso all'orecchio. Se poi non basta, richiamare Bertinotti. Proposta cambiare nome PDL, è sbagliato, fratelli, noi adesso dobbiamo umanizzare, umanizzare, non cambiare nome ma aggiungere cognome, ripeto, aggiungere cognome, per esempio PDL Rossi o PDL di Girolamo, che sembrano di noi un vicino di casa, un amico e invece poi di fotte. Milano, squadra Pisapia sarà a metà donne, insinuare Pisapia metà donna. Immigrati, spostare centri accoglienza da Lampedusa a Napoli e tanti auguri a De Magistri, spostare finto attentatore Belpietra su finto suicidio Mastella, ripeto, spostare finto attentatore Belpietra su finto suicidio Mastella. Scaiola prende il posto di Lupi, però ci lascia la casa. Economia, la strategia di Tremonti, mo l'abbiamo capita, risanare tutti i conti e poi vedere chi è rimasto vivo. Basta, mo Tremonti accacciai i soldi, se non lo fa rapiteci un parente o peggio ancora chiamate lo stilista di Formigoni. Processi, dobbiamo spiazzare, spiazzare, scambiare testimoni, mettere Milz sul processo Rubi, mettere Rubi su fondi neri Mediaset, Minetti sul lodo Mondatori, dichiarare ero l'igienista dentale di De Benedetti, spiazziamo, cambiare gli schemi, Milz sul Rubi, confessare 600 mila euro, era io che me la ingroppavo. Spiazzare anche con le riforme, privatizzare le guaglie, ripeto, privatizzare le guaglie. Informazione, vogliono cacciare via Sallusti. A me mi dispiace perché a me Sallusti mi piace. L'unico problema di Sallusti è che lavora solo la notte, perché la luce del giorno ci fa paura. Allora, piuttosto, facciamo due direttori. Un direttore di giorno e un direttore di notte. Oh, a proposito, attenzione, per il cuoco, non mettere aglio nei broccoli e Sallusti. Ripeto, non mettere aglio nei broccoli di Sallusti. Minzolini, invece, avevamo detto che se ne va. Minzolini, guardiamoci in faccia, tu la liquidazione l'hai già presa. Tu sai com'è, tu sai dov'è, tu sai quant'è. Allora, rai, passiamo la rai, fratello. Fate scappare tutti alla sette, li facemmo andare tutti quanti alla sette. Poi, una volta che sono tutte alla dinde, chiusi alla dinde, ci abbassiamo il tetto pubblicitario e li schiacciamo. Come facciamo? Facciamo una norma, la nascondiamo dentro un maxiprovvedimento sulla manutenzione dei semafori che nessuno ha, la facciamo votare e è fatta la cosa, a polpetta avvelenata. Allora, rai ancora, ruffini, trattamento preciero, stanza grande, senza porte e finestre. Digitale terrestre, cambiare i numeri dei canali rai. Più velocemente, più velocemente, cambiare, cambiare. Fratello, vi ricordo perché avremmo fatto questo digitale terrestre? Così la gente stava continuamente a risintorizzare, risintorizzare e non vedeva quello che accade. E, jam, ma su, che media c'è stato di fatturare? Politica estera, politica estera, mamma mia, che guaglia. Chiamami Frattini. Signore Frattini, non c'è, perché sta a Bruxelles, signor. Voii frattini, non c'è, perché la gente stava a scopo? Sì. In un cibiliato paese, il primo ministro si è stato fuori da l'office. Sì. E in uncivilizzato paese, anche. Oh, sì. Italiano è il dictatore di un uccasso idiota. Sì. Ma compreviù. Italiano ha perduto credibilità. Oh, sì. Tu è diventata la Bacca dell'Europa. Sì. Dessere. Ma nei fili di questo paese, io tenevo la pittura, così che tenevo gloria, e andrò a ottenere l'anello. 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 Sì, signore. Dov'è l'anello? Dov'è l'anello? Dov'è l'anello? Dov'è l'anello? Sì. Sì, signore. Se mi porti una sigaretta, senza farti vedere, ti ripeto un segreto. Signore, mio cugnato vuole venire a lavorare in Italia, ha detto se tu lo puoi aiutare. Io gli ho detto che parla tu con lui, se io puoi dire se... Tu lo sai chi c'era dietro le brigate vostre? Sì, signore. Chi c'era? I servizi segreti, signore. Sì, signore. Già me l'ha detto questa segreta, signore. Sono tanti segreti. Sì, me l'ha detto già, signore. E prese per le palle per tutti i segreti, ma adesso è ancora di queste per rivelare, ma a te li voglio rivelare. A me me l'ha detto. Lo sai chi c'era dietro all'Aliaccia? Chi c'era, signore? I servizi segreti, signore. Un burattino. Era un bufazzo, neanche sapeva che doveva sparare. Era un burattino, signore. Era un burattino. Che c'ha avuto, signore? Oh! Che ha fatto, signore? Ho fatto ancora. Signore, scusa, se hai fatto tutto insieme è meglio, perché chi pulisce le palle, c'è la patrice che è troppo vuota. Senti, ma sta piovendo, perché sento l'umidità nelle cose. Perché hai fatto la pipì e se scappa, signore? Io ti dico il vero motivo per cui ti ho chiamato. Per tutti, ascoltami, io voglio dirti una cosa che tu devi stare attendo in questo paese. Il problema più grave, lo sai? Qual è, signore? L'immigrazione. L'immigrazione, signore. L'immigrazione è piena d'Italia, è rovinata. Adesso è piena di negri. Piena, signore. Bro, scusa, per favore, alza la mano se la devi fare senza padella. Se c'è la padella va bene, senza padella va bene. Ma lo sai, peggio ancora dei negri, chi c'è? Chi c'è peggio ancora, signore? Peggio di tutti gli immigrati. Sì, sì. I filippini, i filippini sono una vogna, sono una schifezza pericolosa. E' l'invasione dei filippini, dobbiamo fermarli, io e te insieme. Ti faccio cucinare delle grandi oiente, li dobbiamo fermare perché i negri almeno lo vedi in faccia, subito, prendi amico, pum, e tutto è finito. Ma i filippini si mescolano in mezzo agli altri, con le fattezze umane, e si mettono dappertutto. E i filippini possono andare dappertutto. E noi non li vediamo, anche in questa casa si potrebbe nascondere un filippino. Sì, signore. Ma tu di dove sei? Io di Milano, signore. Milano, ah, bravo per me, un ragazzo italiano che fa ancora questo. E' strano però, perché i delineamenti sono molto peculiari. Grazie, signore, grazie. Ma papà di dove sei? Di Milano, signore, pure lui, signore. Pure lui, signore Milano. Che squadra dici? Ma Nilan, signore. Milan? Milan, signore, signore. Ascolta, vuoi sapere perché ti ho chiamato? Sì, signore, più pulita dopo, quando hai fatto, signore. Per tutte le notti ho scritto una lettera a Giorgio Napoletano. Sì, signore. A lui personalmente la dovevi consegnare, senza farti vedere. Sì, sì, signore. Ho scritto una lettera a Giorgio Napoletano sui negri. Sì, signore. Hai capito? Sì, signore. Io conosco tutti i segreti di questo paese e a te li volevo raccontare. E' stato il generale De Lorenzo. Allora c'era modo che Bettino Craxi era il figlioccio del marito di Vangelis. Sì, signore. Lui solo, sapete? Sì, sì. Dove essere nascosto il segreto. Oh, ho fatto ancora. Sì, signore, però scusa. Io le avevo detto, se non ce la poteva alza la mano, signore, però scusa. Oh, vuoi sapere il vero motivo per cui gli ho fatto chiamare? Sì, signore. Per tutte le notte ho scritto una lettera a Ratzinger. A lui personalmente la dovevi consegnare, senza farti vedere. Sì, sì, signore. Perché io conosco il suo segreto. Oh, ho fatto di... Che c'è da oggi, signore? Scusate. Ho perso il controllo dello Stato, ho perso il controllo dell'indestino. No, questa volta non c'è niente. Va da solo. Io, va come un corpo estraneo. Se una volta avevamo il controllo, e io facevo quando scegliete di fare quelle che dovrebbero fare. Sì, signore. No, che prima succeda e dopo chiamo a me, signore. A te. Di dove hai detto che sei? Di Bologna, signore. Bologna? Bologna, signore, sì. È strano. E papà di dove? Di Bologna. Bologna, sì, signore. Bene. Bologna, sì, signore. Bologna, sì, signore. Bologna, sì, signore. Il sacerdotio che trofebbe essere santo e immagolato appara agli occhi del mondo lasciifo e corrotto. Ogni giorno un altro sacerdote viene arrestato per abusi su minori. La gente o male ci guarda con sotticismo e diffidenza. Siamo minacciati dal decadere dei costumi, dal ateismo, dal relativismo etico. I sacri dogmi fengono quotidianamente irrisci e contestati, fino ad arrivare a mettere in dubbio la stessa verità della fede. O quanti tei dell'Olimpo, e tanto che non finca qua giù a disturbarvi. Vi imploro, accettate questo sacrificio di calina e tornate a darmi il vostro aiuto. Tu mi nervi, teo della sapienza, concedimi il lume della tua saccezza e indicami la strada. E tu, Marte, teo della crea, fai a pezzi miei nemici, atei e blasfemi. E tu, Capito, smettiti di scagliare, fece fra uomo e uomo. Oh, antichi tei, vi abbiamo coperto per due mila anni dietro questo monoteismo di facciata, lasciandovi in pace come da corto, senza più preoccuparti di noi poveri mortali. Ma adesso, umilmente, fin ploro, tornate per un giorno al vostro posto di comando e tatemi una mano. Eolo, che casino che hai fatto in Giappone? Stavamo parlando degli dèi, chissà dove sono finiti. Ma se poi tornassero, sarebbero in grado di capire il mondo in cui viviamo oggi? Sugli dèi non ne sappiamo più molto, se non che erano tantissime e chissà cosa hanno combinato in questi millenni d'assenza. Per esempio, c'è una nuova genia di dèi romani incrociata con quelli scandinavi. Sono stato sceso sulla terra in mezzo ai mortali per riparare i torti e trionfare la giustizia. Ma essi sono così confusi. Nel loro cuore arbregano i sentimenti più bassi, tipo la paura, la virtà e la buciardia. Ognuno porta una acqua al suo mulino. È tutto magna magna. A volte il dubbio mi assale. Padre, che cosa debbo fare? Aniene, figlio mio, ti ho inviato su Atera per un compito ben preciso. Dovrai vigliare sulle umane debolezze. Non ti è permesso interferire con gli umani. Ricordati, tu vieni dall'universo molto più grosso. Sei stato forgiato dalla spada marone. Devi aiutarli a seguire la loro strada, senza interferire. Quel martello che ti ho dato non serve certo a scaccia i chiodi. Usilo con saggezza. Padre, messi sono così fragili, così inclini ai debolezzi umani. Così? Inclini! Sono umani, questo è così. Non è che puoi interferire. Padre, te sento o non te sento? Aniene, figlio mio, ricordati quello che ho detto prima. L'umanità soffre quello che è in definitiva un momento di crisi. Aiutali, istradali su la strada. Ma ricordo, anche se cammini in mezzo a loro, non sei uno di loro. Ma chi sta a camminare? Eh? Non stavo a camminare! Adesso no, adesso stai fermo. Ma quando cammini, ricordalo, non sei uno di loro. Sei stato forgiato dalla stessa spada di prima. Aiutile a trovare la loro strada. Questo pianeta, da una parte, possono essere deboli, incline alle debolezze del corpo. Ma dentro a di essi c'è una grandezza come tutte le cose. I cose, i versori. Sono come dei bambini. A volte magari hanno confusi. Qualche volta sono anche imbriacati. Sono mortali, ricordalo. Non campano gli anni di pippo come noi altri. Ma io so che c'è del buono in loro. Aiutali a niene. Aiutali con sto buono. Pure dentro a di essi brilla una scintiglia divina. Padre, mi piace una! No, ecco, cominciamo subito. Non ti puoi ammocchiare con una mortale. Non devi mescolarti con le donne della terra. Al massimo un bacetto. Sei stato forgiato con la stessa forgiatura degli dèi. Se ti ammocchi è finita. Quando la quinta luna si sarà messa per così, tu aggirai. E così come? Eh? E così come? Te sento e non te sento. I poteri che ti ritroverai sono presso a poco quelli del tuono. Usali. Usalo sto tuono. Ma non esagerare. Ricordati. Troppi tuono è come nessun tuoni. Padre, ma in bella sostanza. Che cosa devo fare? Aniene, tu c'hai grandi poteri. Ma tanti poteri vuol dire una grande responsabilità. Persegui il bene. Tutto quanto bene, capito? A volte magari c'è una terannia. E tu aggerai subito nei confronti di questo qui. Tu c'hai poteri. Usali con saggezza. Se no come tu dati ti levo. Tu sei bravo, Aniene. La gente fida a te. Non deluderli. No, padre. Non ti deluderò per gli dèi. Sarò lo strumento del tuo volere. Bravo. Lo siamo tutti. Eri bravo. Per questo ti avevo mandato. Riponiamo in te speranze di tutto quanto. Ricordati ciò che ti ho insegnato. Una parola e poche e due sono troppe. Oh, padre. Oh, grande Dio. Farò come tu comandi. Degno al massimo delle tue parole. Mamma, come sta? Come sta? Mamma, non c'è più qua a destra. Usai. 150 anni di mafia. Incredibile. Sembra ieri. Io ho cominciato con una patata e un proiettile. Non tenevo ancora la pistola. E guarda dove sono arrivato. È una stop. Che cos'è? Fer. Non è tenuto in giro, Fer. Via, buttiamoci a terra. Eccellenza. L'hai acceso tu questo? L'hai acceso tu che sta minchiata? L'hai acceso io? Vedi che sei un minchia? Sei la protese della stessa minchia. Oggi poi sei eccitato. Non so che cosa... Stavo facendo le cose serie qua. Forse. Eccellenza, scusami. Stavo in un momento lirico di ricordare ricostruire questa storia. Faccio le mani e cellenze. Eccellenza, dove lo devo attaccare? Lo spiegare. Allora per l'ultima volta. Lo sarracino l'hai a pendere fuori dalla porta. Così. Quale dalla porta? Il cane abbattuto. Lo devi mettere sullo zerbino. Un po' ciambellato. Che pesce? Un po' ciambellato. I testi di morto dove li metti? Dove ne appende i testi di morto? Lo spiegare. Ascoltami. A testa di morto c'è la caccia di in da bocca del cane così in fondo. Fino allo stomaco. E poi a mezzanotte piano piano si tira fuori e c'è questa cerimonia dolce. Che bella e cellenze voglio ballare tutta la notte qua a Sundino voglio ballare e cellenze. Ascolta, tu sei eccitato, lo capisco, ma questa è una festa istituzionale. Quando loro fanno la festa lì alla loro repubblica non è che tu vedi napoletano che balla tutto il giorno tocca il culo alle femmine. Sta con posto, con la gravatta. Hai capito? C'è la zia una volta è stata una festa dei napoletani e ballavano tutta la notte, hanno ballato. Niente. Non c'è una cura purtroppo. Un telefono, ci ponte. Pronto? Che minghe. Chi è? Da stamattina che chiamano, chiamano. Lo capisco, però tu manca... Don Vito, bacio le mani. Sì, eccellenza sta qua, adesso glielo passo. Grazie, augurio a voi. Bacio le mani. Don Vito, carissimo. Grazie, Don Vito, grazie. Siete gentili. Ma no, Don Vito, la mafia non esiste. È un lavoro di squadra. Sono tante professioni. Non esiste, la mafia è un'invenzione della stampa. Vuoi parlare tu con questa scassa minghia? Noi ce l'abbiamo. Allora, fammi finire, poi tu. Suo primo passo. Cosa dici tu? Sì, scusa, Don Vito, è un picciotto che oggi è eccitato. Non lo so se ha pippato qualcosa di strano. Sì, cosa? Cosa dici, Don Vito? Che sono il miglior premier di Cosa Nostra degli ultimi 150 anni? Sei gentile, Don Vito. Ma lo dici solo perché tengo sequestrato tua figlia? Ah, sei sincero? Mi fa piacere. Grazie per la telefonata, Don Vito. Baciamo le mani. Siete, di scassa minghia tutto il giorno a chiamare. È sempre bravo, Don Vito. Si ricorda sempre di tutti quanti, è vero? Ho telefono ancora. Fermo. Io questo schello lo riconosco. Non rispondi. Non rispondi. Pronto, chi è? È Susilvio. Non ci sono. Ascolta, non ci sono. Sono uscito, sono fuori. Capito? Mi dispiace, Sua Eccellenza non c'è. Adesso io lo passo. Sei un minghione. Susilvio, come stai? Grazie che chiamaste, grazie Susilvio. No, complimenti a te per tutte le cose che stai realizzando. Bravo, Susilvio. Hai stabilizzato l'economia. Adesso non si muove più, proprio. Sì, lo so perché chiami, Susilvio. Già ne parlai con Picciotto che mi ha mandato l'altra volta. Sì, lo so. Ho capito che hai a fare un altro rimbasto. Ti ringrazio che hai pensato a me. A me non me la sento di entrare nella maggioranza. Sto bene qua. Voi state là, non fate una minchia tutto il giorno. Votate e chiamate, votate e chiamate. A volte vi invertite le parti. Io non posso. Ho da lavorare. Hai capito? Ho capito? Sì, Silvio, però voglio spiegarti un concetto. Non è che se uno è indagato deve per forza scendere in politica. Ci sono anche altre cose della vita. No, al governo no, Susilvio. Eccellenza, al governo. È un'occasione irripetibile. Dovete andare, eccellenza. È una cosa bellissima, andiamo al governo, eccellenza. È un picciotto che è giovane, non capisci. Non esiste il governo, è una finzione. Il governo non esiste, è un'invenzione della stampa. Il governo non esiste, è un'invenzione della stampa. È un'invenzione della stampa, domani saranno i topi, l'altro giorno saranno le degole del tetto. Ogni giorno ce ne sono. No, il suo Silvio, te stavo spiegando. Il suo Silvio, voi non fate una minchia tutto il giorno. Io ho delle responsabilità. È troppo presto per me per pensionarmi e ritirarmi nella politica. Voglio ancora lavorare. Ma ci stanno la macchina blu, eccellenza. Sì, ho capito. Ma la macchina, tu lo sai che la macchina non mi piace perché esplodono, capito? Non mi danno... Andiamo, in televisione c'è Santoro. Sì, sì, ma ci sono i giornalisti. Non è come qua che tu puoi sparare i giornalisti, li porti in una barca, li metti e se ci spari vinci un premio, lì c'è la televisione istituzionale, non puoi fare niente, è noiosa Roma, è noiosa. E non sei mai stato. Ma ha detto che ci stanno un sacco di femmine, se fa il governo ci stanno un sacco di femmine che stanno nel Parlamento. Sì, ho sentito femmine, fai cuore. Sì, ci ho spiegato. Sì, ma quelle femmine, ascoltami, le devi pagare. Non è come qua, tu la porti in un granaio, fai quello che devi fare, ci dici se parli con tuo padre, io te sparo, capisci? Lì invece devi pagare ogni volta. Sì, però la prostituzione fino a se stessa. Non mi interessa. Se è un business che lo gestisco io, è un affare, va bene. Ma che uno fa produttore e consumatore, che cos'è? L'economia di sussistenza, zio Silvio, deve... Ma una ficcata costa 5.000 euro. Ma eccellenza, i soldi non sono i suoi, sono dello Stato, che ci importa? E comunque troppo, scusa. Scusami, zio Silvio. Perché se parli bene è troppo? Ah, quella non l'hai pagata, ci ha regalato la macchina laser per la depilazione. No, 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 perché qui le picciotte usano ancora la polvere da sparo. Senti Silvio, ti ringrazio, già tu lo dissi, è inutile che mi chiami, non voglio entrare al governo, non mi mandare nessuno, cazzo Silvio, non mi mandare un'altra volta Lele Mora, che è chi, lo è Puppu, poi la gente non parla ma mormora sì, capisci? E non voglio passare per Puppu. No, no, cio Silvio, chi mi ha mandato? Ma oggi che stiamo festeggiando, a cacca a casa mia l'ha mandato un anno. No, te prego, cio Silvio. Eccelenza, non suonato. No, non aprire, non aprire, non aprire. Niente, niente. È una prostata ipertrofica, non è un uomo. Ah, che viaggio terribile che affisce Celepati. Prima un caldo infernaio, poi si bocca il vestito con un fico d'inca. Ora Celepati vuole parlare di politica, Celepati vuole parlare di omeopatia. Sì, signori miei, l'omeopatia. Non quei farmici chimici che fanno male, non curano niente. Ma queste meravigliose pellulite che si sciolgono sotto la lingua. Ora Celepati... Su Silvio, ti devo dare una notizia. Purtroppo un anno morivo. Lo sapevate? La deriva dei continenti è un fenomeno geologico inarrestabile ed è tuttora in corso. Se l'uomo non farà qualcosa nel prossimo milione di anni, succederà questo. Si staccano proprio. E poi... Vagli riprende. Si chiama telomerasi. È la misteriosa proteina che determina la nostra longevità. Lo sapevate? Allungando artificialmente questa proteina in laboratorio, sono riusciti a raddoppiare la vita dei topi. Ma tanto poi quelli che si rosicchiano tutta e li stiamo da capo a dodici. Più longevo, più rosicchia. I primi ominidi partirono dall'Africa e conquistarono prima l'Asia Medio-Orientale, poi millennio dopo millennio, l'Europa, le Americhe e infine l'Oceania. Quando tornarono in Africa, gli hanno fregato tutto. Colpa tua, parti. Un anno, poi i ladri aspettano un millennio, due millenni, vedono che non torni. Colpa tua. Geope. La piramide di Geope è stata ormai scoperta e esplorata da tanti anni, eppure non ha ancora finito di svelarci tutti i suoi misteri. trovata una nuova cripta segreta piena a zeppa di riviste porno. Di chi erano? Di Geope? Poi quando lui, tutti gli dicevano che non sono i miei, non sono i miei. Anche i faraoni se le portavano nell'al di là. Perché c'erano solo i numeri vecchi. Cosa uso per la mia pelle? La nuova crema di carnì alle foglie. A una certa età è importante ricordarsi della pelle. Io mi ho messo a sveglia sul telefonino. Ecco cosa uso io. Usavela. Nuova crema di carnì alle foglie. Grazie ai principi inuditivi propri delle foglie penetra a fondo nella mia pelle e la rende più morbida, più elastica, più luminosa. Nuova crema di carnì alle foglie. Alle foglie di che? Niente. Alle foglie. Alle foglie in generale. Non lo so alle foglie di che. Il potere proprio di... Emollienti delle foglie. Niente, ho sbagliato. Adesso prendo la modella polacca. Comunque posso dire una cosa. Non lo so che foglie sono, ma fa una puzza mortale. Le carnì, eh? Ti dispiace. Eccellenza, che dobbiamo fare con un anno morto? Scusa, Silvio. Mettelo anche il tuo sullo zerbino. Che c'è il cane? Lo metti davanti al cane. Lo metti anche lui a ciambellato davanti al cane con questi musetti che si guardano fra di loro. Che musetti che si guardano. Scusa, suo Silvio. E certo, adesso ti manca un voto e devo venire io. Su Silvio, vada. Su Silvio, è colpa tua. Va bene? Ora te lo voglio dire. Perché fai fare tutto la Lega e chi di chiaramente preferiscono la Camorra. Io lo capivo. Perché la munizia fa la Camorra. E un nucleario fa la Camorra. E l'alta velocità la fa la Camorra. E la televisione la fa la Camorra. E quindi Saviano, che tempo di minchia viene via un tuo culo. La mafia ormai un documentario è diventato. Gianni Minoli devo aspettare perché si parla di nuovo oggi. Ma al di là del danno economico, Silvio, che i soldi vengono e vengono, non è quello il problema. È un danno d'immagine. Non ci bastava la scessione di mafia e libertà. Silvio, stare con te è un danno d'immagine. Mi dispiace dirtelo. Solo proclami fai. Fai proclami e poi non fai una minchia. Io qua non lo posso fare. Se io qua dicessi metto la bomba, per domani metto la bomba, e non la metto mai, i vicciotti mi ingaprettano, mi buttano in una fontana con un peso ai piedi e esprimono un desiderio con la fidanzata. Hai capito la differenza con Noaucci? Su Silvio, allora vuoi che te lo dica con tutto rispetto? Su Silvio, sei finito. Vedi che sei finito. Scusa se te lo dico. Non conti più una minchia bucata di una minchia. Adesso vuoi fare la trattativa? È tardi Silvio. Ti devo salutare. Non vengo a Roma. Non mi mandare nessuno. Non mi fa telefonare da nessuno che la risposta è Noa e Noe. Era dal 1990 quacchio che volevo a dicere queste cose. 17 anni che aspetta che dice, dice, e non fa una minchia. Abbiamo finito anche questa fase storica. Di tutti i modi che ha potuto festeggiare ste 150 anni che sto a occhio beddu e anche occhio sfizioso. Oh! Ancora. Pronto? Tu sai chi è? Tu sai perché? Tu sai qual è? Sì, maestro venerabile. Allora, guagliù, sentimi bene. Domani mattina a Palazzo Chigi rimpasto ore 8. Ripeto, rimpasto ore 8. Ore 8 sarò puntuale a Roma. Eccellenza. Sì. Ah, che giornata invernale per il povero Scilipoti. Prima un viaggio terribile. Poi a Scilipoti ci hanno anche sparato. Poi Scilipoti si è svegliato accanto a uno stranissimo cano. Ora Scilipoti vuole parlare di maggioranza. Ora Scilipoti vuole parlare di politica. Ora Scilipoti vuole parlare di... Neanche ho cani, Murio. Solo ho i cappellotti sono felici. Mi metto un cappellotto e torno un bambino. Una patata e un broiettile. Tu mi presi un mille euro? Yes. Magstu un fiume fiume? Yes. May I sleep with your wife tonight? Yes. È verrà che soffre di aerofagia? Oh, yes. Did you know that if you put a tooth under your pillow then the teeth fairy comes to visit? Yes. Ecco qua, signor. Scolta, se mi botti un caffè senza verte tende il caffè mi ci metti una Sambuca all'interno della Sambuca mi ci metti un whisky un whisky dentro al whisky senza farti vedere mi ci metti una grappa alla pera alla pera e in cambio di un grande segreto non furono le brigate rosse a rapire moco fu moco a rapire le brigate rosse e dietro a me c'erano i servizi segreti di strada già me l'ha detto questo segreto segreto già me l'ha raccontato le torri gemelle è sempre stata una sola oggi stava di qua domani stava di là quella per cui sembrava che erano venuti giù assieme è una grande illusione non sa nessuno ma tu di che loggia sei? oggi è giubedì segreto no a chi sei affiliato? io di Burtina abitavo di Burtina a grande oriente di Burtina via della burrotella di Burtina è strano che tieni dei lineamenti molto particolari di Burtina mamma di dove? mia mamma di Burtina pure lei quello che abbiamo fatto negli anni Ottanta ancora si deve sapere perché gli anni Ottanta non sono mai finiti cosa resterà cosa resterà di questi anni Ottanta quest'anni Ottanta signor quanto resterà cosa resterà una fotografia una fotografia signor ho fatto sì signor si sentite di pensare a mano però mi aveva promesso ho scritto una lettera per Osama Billata non c'è più tu consegnagli la nuova crema di Garnet la nuova ma non può andare più piano gira troppo non riesco a leggere la nuova la nuova crema lo fermate per il piacere lo fermi per il piacere lo fermi per il piacere la nuova crema la nuova crema la nuova crema la nuova crema questo hotel è bellissimo ma un po' di più carico non ho giocato la piano ma ho giocato la guitare molto bene tell your uncle that your furniture will arrive tomorrow shall I open the window it's very hot in here stop this poor guy please me vi racconto questa l'altra sera stavo nel parco dell'Abruzzo mi stavo i*****ando un capriolo arriva una guardia forestale e mi fa ma presidente questa è una specie protetta e io ma guardi che sto usando il preservativo Aniene figlio di Disse e di Dena porta sto cognome senza farla superbia ricordate a volte quando eri piccoletto hai peccato di superbia sii umile si umile umile al massimo come sempre padre qua superbia ho chiuso è chiuso ho chiuso t'ho chiesto scusa miardo le morte anche se sei un deo c'è pure due debolezze ma io so che il tuo cuore è buono l'unica cosa suoi fisse ricordati il martello che hai è quello originale nullo vendere ma nullo voglio vendere però ti sei informato eri cattiere mi ha chiesto quanto ci volevo ma appena curiosità sua ti ha fatto al prezzo di una cassa panca ma infatti non glielo vendo se lo vendi ti levo i poteri chiaro ma chi glielo vende bravo tuo fratello come sai è mezzo delinquente e non è degno di albergare gli dei a lui lo ribudo ma tu non fare come lui ricordati di due fratelli uno è venuto bene tu figlio mio questo è il tuo destino anche lui è superoi però nel suo cuore alberga la merda maledetto non dimenticherò mai l'affronto che ha fatto a voi padre se voleva piare il trono la maledetto la maledetto della sua azione ricade volonta su tutti quanti di noi il trono vuoi appartire dal lignaggio è un pezzo di merda l'hanno messo in un cipresso di piombo per 5 mila anni e solo fa il suo arte 5 mila ricordati a niene o potente di odertuono la forza è importante ma è sempre il cuore di scegliere il bene ricordati i quattro pilastri della saggezza dire fare avere eccetera comunque noi riponiamo la fiducia in te per Natale te famo il cellulare nuovo e ora va figlio mio si padre celesti ci ho capito o non ci ho capito per prima cosa faremo un berduono bentornati fratelli finalmente soli mi sono liberato di tutte queste guaglione gli ho dato dei posti nei vari consigli comunali che ci sono rimasti perché voglio parlare con voi di una cosa importante fratello l'Europa diciamoci la verità questa Europa è una delusione non c'è questione politica sono soltanto buoni a dire oh pilastri non va buoni ma stricche le condizioni le guateratte le cose ma come si fa quando io lavoravo con l'ADC e tenevamo un problema economico nel nostro paese e che facevamo stampavamo 500 miliardi di lire inflazione caloppante e bafangulo e oggi non lo puoi più fare siamo chiusi in queste gabbie fredde di conti ma i mini assegni fratello vi ricordate che bellilli i mini assegni io li facevo personalmente con la carta dello strutto ancora li conserva allora fratello noi abbiamo a prendere la decisione e la mia domanda è ci si nota di più se usciamo dall'Europa o se restiamo un po' in disparte come stiamo adesso fate no fate voi decidete tutto voi io dico fratelli è ora di uscire dall'Europa ma soprattutto uscire dall'euro questa moneta che è una schifezza e allora fratelli ci vuole una nuova moneta o guaglione africana sta stampando una nuova moneta no signor io non sono africano sono filippino ma se già ti ho spiegato non siamo a scuola a fare le lezioni di geografia i continenti in realtà sono solo tre america del nord europa e africa poi se vuoi puoi distinguere tra africa asiatica e africa latina ma sempre africa è hai portato questa moneta porta porta la moneta facciamo vedere a fratelli fate adesso caldi caldi signor eccoli fratelli in anteprima assoluta mondiale totale vi presento la nuova moneta italiana il debito pubblico italiana fratelli ripete il debito pubblico italiana questo è il taglio da 50 debiti vedete quant'è bell'illa ci stanno i sacchi della mondezza che fa molto neorealismo e a fessa che non ci sta mai male 50 debiti altrimenti avemmo taglie da 100 debiti verde sembra monnezza sembra la fessa verde altrimenti 500 debiti la moneta che non vi capiterà mai in tasca eh fratelli scusa signor vorrei poi chiedere se è possibile anticipo sull'equitazione del 2018 l'anticipo dell'equitazione del 2018 ma per chi perché cugina di mio cognato si sposa a Filippine ma c'è avuto lei c'è avuto un'ernia al seno deve fare operazione a clinica privata e ci vuole soldi deve dare un po' di soldi che c'è avuto tua cugina un'ernia al seno un'ernia al seno al seno avuto un'ernia al seno tutti e due signor va buono o sai che ti dico voglio essere generoso ecco qua la tua liquidazione guarda sono tutti tuoi bella ecco liquidazione e ci scappa pure un regalo per la boboniera questo non va bene questa è la fattiglia adesso non sono buona sono buona sono buona dacci tempo questa diventa una grande moneta vai 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 no signor pure l'altra volta me l'ha dato questa non riprende nessuno neanche nelle Filippine le riprende scusa tante questa è la fattiglia adesso ma che vuol dire l'ho fattiglia ma perché i guaglioni che stampano la zecca di Stata poi non fanno pure la spesa al supermercato con questi soldi non fanno la benzina vedi che c'ha ragione Calderoli voi africani siete più razzisti negli altri piuttosto hai pulito il salone o il pavimento ho pulito tutto con cera e nuzzi cera e nuzzi basta poco a poco pulisce tanto e lascia pettela il meraviglioso profumo dei grumi di Sicilia non la puoi fare qua la pubblicità già te l'ho spiegata non la puoi fare qua la cipra ancora non è arrivata e quando arriva la cipra me ne vado io scusa signor però se io non posso fare questo soldi non mi li dà buoni come faccio io scusi parliamoci chiaro io ti ho fatto qua affiliato a Bocico per un motivo un motivo solo perché sei anche a servizio della signora Bocassini quindi fammi rapporto sei stato ieri sera hai messo i cimici ieri sera ho messo i cimici bagno e cucina ha spiato tutto signor buono che c'era ieri sera si signor ha scritto tutto come ha detto te ma le puoi fare un rapporto con la carta se soffio un'ase fino a dove rapporto c'era signor Colombo signor Gerardo Colombo Ingroglia Ingroglia Bustock e Bocco e che hanno detto che dicevi signora Bocassini ha detto sotto voi dice piano piano maggio è stato più freddo di altra volta ora poco caldo ma ci sono già le zanzare ma che cosa mi raccomando tu prendi dei dati voi gli dati sensibili che cosa hanno fatto la cena che hanno fatto la cena la cena ha mangiato pasta pomodori carciovini scaloppa limone saltate padella e puntarello con l'alice ho capito le carte hanno tirato fuori le carte che hanno detto le carte dopo la cena ha tirato fuori le carte tutti la signora Bocassini ha parlato per prima ha detto se io busso il bastone tu lo spondo a copo dopo le altre fanno scopa chi non la capisce da sola ma no le carte da gioco le carte dei processi le carte dei processi usa carta morbide signor dopo i veli molta morbidezza come voluto e anche ecologica signor vai da nonno che si è pisciato vai no fratello ma non è solo un problema di personale che qua non ha più senso questa loggia non ha più senso qua non si può più fare niente non dico un attentato una bella esplosione una marcetta militare ma neanche truccare delle elezioni fratello ma che cosa stiamo a fare qua è pure buio fanno caldo e questo cappuccio calcato in da capa ma che cosa sto a fare qua ma perché spendo tutta la mia vita qua d'ind a volte il dubbio massale padre che cosa devo fare ma volissimo provare una volta questa famosa democrazia di cui tanto ha sentito parlare ma tu sei pazzo figlio ma perché se non abbiamo provato mai in 60 anni una volta ma perché io non ho già provato mai anche lo stecco di cavallo ma tanto è già lo so che non è buono e allora andiamo avanti con la scaletta Giovanna Giovanna ha un sogno Giovanna ha un sogno avere la terza di seno anche Maurizio ha un sogno fare il chirurgo plastico per un giorno li abbiamo fatti incontrare in scontro di sogni scontro di sogno prossimamente su sky scontro di sogno Referendum Popolari 2011 Il 12 e 13 giugno alcune persone stravaganti si vorranno recare alle urne per abolire delle norme che spostando due virgole verranno riproposte pari pari da questo governo. Ammesso che raggiungano il quorum, è bene ricordare che difficilmente il loro voto verrà preso sul serio. L'istituzione del referendum è una forma di democrazia diretta e spesso anche volgare. Questa volta non c'è bisogno di portarsi il documento che si rischia sempre di perderseli e sapete quanto ci vuole poi a rifarli. Se dite il vostro nome con sicurezza e convinzione al personale del seggio, credo che vi faranno votare lo stesso. Potete usare le schede che vi verranno consegnate al seggio, ma secondo me anche un foglio di carta a quadretti e un abiro vanno bene. Se non vi è arrivato il certificato elettorale, non richiedetelo all'apposito ufficio. Accettate questo fatto come un segno del destino e godetevi il giorno di festa. Ad Ariete, Pesce e Capricorno sconsigliamo di prendere l'auto domenica e lunedì. I primi due quesiti riguardano la privatizzazione dell'acqua. Se vorrete che l'acqua rimanga pubblica, fate pure, ma noi ci sputeremo dentro. Il terzo quesito riguarda la norma che prevede la costruzione di nuove centrali nucleari. Ricordate, gli incidenti accadono proprio a chi ha paura del nucleare. È come per i cani feroci, se gli mostrate di aver paura, vi attaccheranno. Considerate che stiamo parlando di centrali di terza generazione, sicure e affidabili al 100%, a meno che, ovviamente, non arrivi un terremoto di terza generazione. L'unico problema che non abbiamo risolto è quello delle scorie, ma quando salterà fuori, noi saremo già lontani. Infine, se credete tanto nell'ecologia, considerate che tutta questa carta per le schede referendarie è stata ricavata abbattendo milioni di alberi innocenti. Il quarto quesito riguarda la norma sul legittimo impedimento che permette al Presidente del Consiglio di non presentarsi ai processi adducendo scuse. Se volete cancellare la norma sul legittimo impedimento e costringere il Governo a impiegare altri mesi per fare una nuova legge ad persona, ma invece di risolvere i gravi problemi del vostro Paese, votate sì. Ma poi scordatevi acque nucleare. La palese ostilità espressa dal vostro sì sarà comunque sufficiente a sollevare sulla cancellazione del legittimo impedimento l'invocazione del legittimo sospetto. Una volta compilata, la scheda può essere inserita nell'urna, ma potete anche lasciarla scivolare accanto. Sarà, credo comunque, ritenuta valida. Oppure piegatela a forma di aeroplanino di carta e lanciatela. Qualcuno sicuramente la raccoglierà e la depositerà nell'urna. Si vota domenica 12 dalle 8 alle 22 e lunedì 13 dalle 7 alle 15, ma potete andare anche il 14 che c'è sicuramente meno gente. Comunque da domenica a lunedì do una grande festa a Fregene, aperta a tutti, si mangia e si beve gratis. E siamo arrivati alla conclusione. Che dire, la situazione è molto confusa, ma come direbbe un credente, non sempre si capisce il disegno di Dio, specie da quando è entrato nella fase Pollock. A destra vediamo dei movimenti frenetici, Alfano diventa segretario del partito e alla giustizia Berlusconi vorrebbe la Gelmini, visto che in fondo sempre di aule si tratta. Il PDL forse apre le primarie, ovviamente con un solo candidato, ma dall'altra parte non sono messi molto meglio. Guardate il caso Pisapia. Gli elettori vorrebbero chiaramente che il PD diventasse un partito di sinistra, una transizione che durerebbe anni. Intanto la situazione economica è sempre molto grave. Questa notte mi è apparso in sogno mio nonno e mi ha chiesto dei numeri all'otto. Siamo all'ultima spiaggia? No, perché Tremonti l'ha già venduta. E dunque questo per ora è proprio tutto. Grazie, spero che ci rivedremo presto. Oh, a proposito, i soldi stanziati dal governo per il teatro e la cultura sono sempre di meno, per cui da adesso in poi abituatevi a spettacoli molto più brevi. Essere o non essere, questo è il problema. Se sia meglio... Ma no, ma che sciocco, è ovvio. A volte mi perdo in un bicchier d'acqua. Sotto la pioggia Ginfamia è di lavoro che non c'è. Li scorderemo anche se adesso sembra strano. Come quel giorno tu hai dimenticato me. E il tempo è un fiume che si porta tutto via. Questi buffoni insieme ai giorni che eri mia. La nostra storia è questa storia senza cuore. Amore, dimenticheremo tutto ma... Ti ricorderai Le sondazioni dell'aniene E forse penserai A quanto ti ho voluto bene Tutto l'amore del mondo non ci salverà Ciò che c'è di più profondo, più a fondo cadrà Tutto l'amore del mondo in un fiume Che scorre sul male, sul bene La miene E strade allagate acqua nei piedi e su di noi Cuori bagnati ed i miei schemi contro i tuoi La vite sulla formazione della Roma Mi hai dato un pugno ed è volato tutto sì Il cellulare cade in acqua nella via Me l'hai raccolto e hai detto scusa è colpa mia Lo guardi e leggi il messaggino di Daniela E da quel giorno mi hai dimenticato ma... Ti ricorderai Ti ricorderai Le sondazioni dell'aniene E forse penserai E forse penserai A quanto ti ho voluto bene Tutto l'amore del mondo non ci salverà Ciò che c'è di più profondo, più a fondo cadrà Tutto l'amore del mondo in un fiume Che scorre sul male, sul bene La miene E fiume minore, un po' indisparte come noi Che sopportiamo e che non esondiamo mai Che sopportiamo abusi, insulti e corruzione Ma troppa pioggia poi ci fa arrabbiare Sì Questi anni amore sembra non finire mai Ci hanno levato tutto tranne i nostri guai Ma non conoscono la forza della miene Che tutto il male lava via dal mondo Così ci libererà Ci libererà Le sondazioni dell'aniene E tu ricorderai E tu ricorderai Di quanto ti ho voluto bene Tutto l'amore del mondo non ci salverà Tutto l'amore del mondo Ciò che c'è di più profondo, più a fondo cadrà Ciò che c'è di più profondo Tutto l'amore del mondo in un fiume Che scorre sul male, sul bene L'aniene 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 E tu ricorderai Tutto l'amore del mondo in un fiume Che scorre sul male, sul bene L'aniene La niene La niene La niene La niene Ah, anche Scilipati vuole suonare i pianoforti!